Ragazzi questa è una serie di pazzi, mi dovete ricoverare, mi dovete ricoverare, ricoveratemi Ragazzi che sta succedendo in questa finale dei playoff? La squadra di Messina sta perdendo attualmente 63 a 70 con massimo vantaggio della Re... della Re... del Bologna ragazzi Proprio in questo momento della Sega Freddo, due tiri liberi, realizzato il primo da parte di Hines E adesso vedremo se la Sega... se la Sega Freddo... se Milano si riporta vicino adesso dell'Anei sbaglia Ah ma su tre tiri liberi, l'avevo visto, ok, uno su due dai tiri liberi, vediamo cosa farà il terzo E adesso ragazzi dovete farvi ricoverare, fatemi ricoverare Vediamo due su tre dalla lunetta Virtus che ragazzi è veramente una grande squadra Io vi dirò, l'anno scorso la davo per favorita allo Scudetto, quest'anno no E adesso mi sta smettendo Paiola, adesso penetrazione, può andare indietro, potrebbe andare a tre punti Ancora... nooo... Penetrazione dell'Anei che commette fallo quando mancano ormai due minuti e cinque secondi alla fine di questa gara due Che potrebbe determinare questa serie e farli prendere Prendere una perega pazzesca ragazzi, ho deciso di commentare gli ultimi due minuti Che sennò poi so che lo spettacolo sarà tanto, durerà tantissimo questo video ma non mi interessa Per il basket questo è altro Adesso va dalla lunetta Milosevic, Teodosic, scusate Primo tiro, uno su uno Teodosic, 21 minuti sul campo, 14 canestri 14 punti, scusate E adesso dà istruzioni sia Cittica e Messina che l'allenatore del Bologna Adesso vediamo un po' se farà due su due Teodosic Vediamo un po' E fa due su due Si porta sul massimo vantaggio più sette Virtus che aveva già raggiunto qualche minuto fa Verso due minuti e quarantacinque Quando mancano ormai ragazzi due minuti e cinque Con Milano che dovrebbe rimontare sette Sto fatto Sette punti e spare un'impresa impossibile Ma nel basket Mai è detta l'ultima parola Da tre punti si prende il tiro all'arco Vediamo di chi è Fallo da parte di Milano E vediamo Non si fa in lunetta Però c'è palla Possesso per la Segafredo ovviamente Vediamo un po' qua A rimbalzo è sì Nettamente spostato Il giocatore di Bologna Adesso è palla Per la squadra In trasferta Da Tome ragazzi Sottolineo qua Poco rendimento Sei punti all'attivo E quattro falli Quindi rischia veramente l'espulsione Quando manca un minuto e cinquantaquattro Alla fine di questa gara due Ecco qua Grandi blocchi difensivi di Milano E adesso cercheranno di far perdere Il possesso agli avversari E qua Ragazzi c'è una situazione di dubbio Ancora qua Paiola Il passaggio indietro Per Teodosic Da tre punti Teodosic Più dieci Massimo vantaggio Da parte del Virtus Ragazzi veramente Io tifo onestamente i Virtus Perché mi stanno più simpati che le V nere Attenzione Palla Adesso scarico indietro Da tre punti E risponde subito Milano Quando manca un minuto e ventitré L'adrenalina sale E adesso Si può andare avanti Con fallo Da parte Di Shields Che ha appena realizzato il canestro Super da tre punti Che riporta subito Milano Dicendo che non si vuole arrendere Adesso sarà possesso Per Bologna Con ancora 24 secondi a giocare 1 e 17 Sul cronometro E adesso ragazzi Vediamo Vediamo che cosa succederà Adesso Grandi istruzioni A parte Di Di Milano Ma adesso ragazzi Entra E c'è time out E ovviamente Time out Anche per la nostra telecronaca Rimane Incollati allo schermo Per cui questa Sarà Un grandissimo Finale Di partita Ecco qua ragazzi Dalla lunetta Adesso Va Teodosic Il tiro Che va dentro Si riporta A più 9 Anzi no Scusate A più 8 La Virtus E adesso Teodosic Che acquista il suo bottino 20 punti oggi E vediamo Fa 2 su 2 Teodosic Portando La Reyes Soffissato Bologna A più 9 E adesso Esce Mi sa proprio Teodosic Inquadrato Un tifoso Molto incavolato Da parte di Milano Che ragazzi Dopo il terzo posto In Eurolega Potrebbe vedersi Sfuggire Lo scudetto Dopo Ormai 4 anni Di assenza Intanto qua Grande azione Però c'è il fallo Difensivo Da parte di Bologna Va alla lunetta Milano E adesso Lunetta di Milano Due canestri possibili Ovviamente Dai Quanti metri so 5 5 metri Può essere Boh Sono deficiente Mi ricordo E adesso ragazzi Grande Difesa Di Milano Che è vittima Il rimbalzo Peccato con fallo Adesso Va Haines 1 su 2 1 su 1 Per ora Per il giocatore di Milano Quando manca Un secondo No no So fatto ragazzi 1 minuto e 0 3 Alla fine Di questa gara 2 Adesso Vediamo un po' E fa 2 su 2 Per poco Entra Non entrava E adesso C'è un cambio Ed entra Marco Bellinelli Ragazzi Vediamo Se darà una grande scossa Alla squadra Oppure Se potrebbe fare Se non farà niente Adesso Ecco qua Teodosic Va indietro Palla Pagliola No Ragazzi Ha sbagliato Teodosic Ha commesso fallo Non so come 5 falli Colpo duro Per Teodosic Perde Bologna Teodosic In questi ultimi 57 secondi E sarebbe sicuramente Stato cruciale Infatti qua Ecco qua Il blocco Scusate il gioco di parole Di Teodosic Irregolare Troppo spintoni Per il blocco Offensivo E quindi Togliendo ovviamente La possibilità All'avversario Di difesa Facendo un po' Troppo a corpo A corpo E adesso Cittimessina Si vede qua Molto deluso Da parte dei suoi giocatori Non si può Di certo Refinire una Stagione Fallimentare Perché dopo 36 anni Se non sbaglio Sono ritornati Alla Final Four Di Eurolega Ma almeno Scudetto adesso Ragazzi Bisogna vincerlo Adesso Milano Penetrazione Ed entra dentro 72-77 E adesso Ragazzi 5 minuti 5 punti Che distaccano Le due squadre Non so ragazzi Se qualcuno Abbia un time out Ecco qua Marco Bellinelli Appena inquadrato E adesso Tanti blocchi Da parte di Milano Paiola Il pallone Per Bellinelli Lasciato smarcato Bellinelli Indietro per Paiola Ancora Ecco qua Il numero 3 Il numero 9 Che la passa Ed è una grande azione Senza difesa A mio parere Da parte di Milano Che adesso La situazione Si complica 7 punti Più possesso E rimessa laterale E adesso Fallo fatti Quanti Sportivo Da parte di Lady A danni Scusate Ho cambiato canale Ai danni Del nostro caro E amico Paiola E adesso Ci godremo Questi primi tiri liberi 80-72 Primo tiro libero Messo a segno Da parte Di Paiola E si vede qua La curva Tra virgolette Su Che cazzo sta La curva La trasferta E adesso qua 2 su 2 Dalla lunetta Più possesso Adesso 14 secondi Per Milano Per la Virtus Ragazzi Può essere Veramente Un verdetto Storico Perché Gara 2 La perde Milano Bellinelli Adesso Con la sua Esperienza Di NBA Bellinelli Fa valere Ovviamente La sua esperienza Fallo su Bellinelli E adesso Va alla lunetta Con Shields Che esce Un po' Che si lamenta Lui Scusate ragazzi Se esce il video Di 10 minuti Ma ci tengo Ovviamente A commentare Queste partite Super Adrenaliniche Ma soprattutto Molto Emozionanti Di questa LBA Che veramente Ci sta regalando Grandi sorprese A partita Da Venezia Che passa E poi ragazzi Tante sorprese Quest'anno E adesso Va dalla lunetta Proprio Bellinelli Che mette KO Milano Più 10 E adesso Vediamo Se con questo Tiro libero Farà Il massimo Vantaggio Da parte Di Verona Ma ragazzi Sto fumando Della Virtus E ragazzi Mette il vantaggio Migliore 11 punti Di distacco Adesso City Messina Invita I suoi Ma questa gara È Stanotte Festa Per Per la Virtus Finisce qua Ragazzi Vi ricordo Domani Appuntamento Con il recappone NBA E forse La zona caffè Bella